Il grano è alla base di tutto, senza di esso non esisterebbero gran parte delle farine. Il grano può essere di due tipi, tenero e duro. Dal grano tenero si produce la più conosciuta farina, ottima per tutti gli utilizzi, pane, pizza, dolci, mentre dal grano duro ricaviamo invece la semola, che è più grossolana della farina e ha un colore giallo paglierino. La semola viene anche rimacinata, diventando più fine, ottenendo così una maggiore versatilità per l'utilizzo nella panificazione. Le piante di grano duro e tenero hanno una fisionomia diversa ma comunque simile, queste sono le parti che formano la pianta. Apparato radicale. Stelo e foglie. Infiorescenza. Frutto, chicco di grano. Il chicco di grano viene macinato dai vecchi mulini a pietra o dai nuovi strumenti industriali per produrre la farina o la semola. Questa figura molto semplificata mostra le componenti principali del chicco e le loro proprietà che verranno poi trasmesse alla farina. Come vedete il chicco ha tre elementi fondamentali. I tegumenti esterni, crusca. Rappresentano la sezione fibrosa, crusca, sono ricche di vitamine e sostanze minerali. La crusca non è completamente digeribile ma è fondamentale per il trasporto delle sostanze nutritive. Nella crusca troviamo tre sezioni. Il pericarpo, parete che circonda il frutto e protegge il seme. Il tegumento o noccella, strato sottile che protegge l'endosperma. Lo strato aleuronico, strato ricco di vitamine e minerali. La crusca costituisce l'8% nel chicco di grano duro e il 12% del tenero, mentre l'89% del chicco di grano è costituito dall'endosperma. Endosperma. È la sezione del grano da cui provengono le proteine utili per formare il glutine in fase di impastamento. Consente alle proteine di trattenere l'acqua e di conferire elasticità all'impasto. Le sue proprietà prevedono in questo caso uno scarso apporto di vitamine e sali minerali ma una sostanziosa riserva di amido. L'endosperma costituisce la riserva della cariosside e ha un ruolo essenziale nella formazione di una nuova pianta poiché il germe trae nutrimento da essa. Il germe di grano costituisce il rimanente 3% circa del chicco di grano duro e il 2,5% circa del grano tenero, ossia la parte da cui trarrà origine la nuova pianta. Il germe contiene un gran numero di enzimi, alfa e beta amilasi, proteine, vitamine, sali minerali e un olio, il tocoferolo, molto ricco di vitamina E. Questo tutorial fa parte di una serie di mini lezioni sul mondo pizza, se vuoi restare sempre informato, ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti nessuna lezione, grazie.